Si chiama Innovagro Vumed ed è un progetto innovativo che dà un'opportunità di formazione volta a rafforzare l'occupazione femminile e la capacità di fare imprese nel settore agroalimentare. Il corso di formazione è destinato a 35 aspiranti imprenditrici o professionisti del settore agroalimentare e un percorso formativo altamente professionalizzante e completamente gratuito destinato a giovani donne tra i 18 e i 45 anni di età residenti o domiciliati in Sicilia. A fine percorso saranno supportate nella creazione del loro business plan oltre che ad avere la possibilità di confrontarsi con gli imprenditori del territorio. Il progetto infatti si pone l'obiettivo di dare gli strumenti necessari per un'altra formazione specializzata e per avviare un'attività imprenditoriale nel settore agroalimentare. Il programma di formazione le sosterrà nella messa a sistema delle nuove competenze per valorizzare al massimo le future opportunità per una delle figure professionali più ricercate secondo le rilevazioni mensili del sistema informativo Excelsior realizzate da Union Camera. Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino al 13 maggio.